Dopo appena un anno di governo Marsilio, i sindacati agricoli stanno mettendo in evidenza i gravi ritardi per quanto riguarda il bando dei giovani, la mancata pubblicazione del bando riguardante gli agriturismi, una serie di difficoltà burocratiche che la Giunta Marsilio aveva promesso in campagna elettorale di abbattere, di ridurre i tempi di attesa, di ridurre la burocrazia sugli agricoltori, di rimodulare completamente il piano di sviluppo rurale, di riorganizzare gli uffici del Dipartimento Agricoltura. Bene, dopo un anno tutto questo non è stato assolutamente fatto e gli agricoltori e i loro sindacati stanno denunciando, lo abbiamo visto ieri con un intervento forte di Coldirette, questa determinata situazione che si è aggravata negli ultimi mesi. E poi, come non parlare oggi della bocciatura della legge cura Abruzzo, non ci sono i fondi per soddisfare le esigenze di famiglie imprese nella nostra regione. Oggi poi, in terza commissione, è stato chiesto in rinvio da parte della maggioranza di una risoluzione che ho presentato insieme ai sindacati e a Confindustria per ripristinare gli uffici relazioni industriali in ogni provincia. Noi abbiamo la necessità di essere vicini e prossimi alle tante vertenze sindacali, a cominciare da TR, VECO, tante ce ne sono in Regione Abruzzo, e avere un presidio territoriale della regione per ogni provincia è fondamentale. Lo chiedono i sindacati, lo chiede Confindustria, ma soprattutto lo chiedono i tanti lavoratori in difficoltà. E per questo aver chiesto oggi il rinvio della trattazione di questo argomento è assolutamente grave, è un segnale negativo verso i tanti lavoratori in difficoltà.